Conclusi i workshop con Margherita Sgarlata, Luca Vitone, Andrea Chiesi e Natalia Gilgabezas, l'Accademia di Belle Arti di Catanzaro ha accolto Christian Ler e Lucia Scuderi per gli incontri di approfondimento e studio inseriti nell'ambito della Workshop Week che si sta tenendo al Museo Marca del Capoluogo di Regione. Christian Ler, artista tedesca che vive e lavora tra Prato e Colonia, crea sculture e installazioni utilizzando esclusivamente materiali naturali come semi, fiori, steli, foglie oppure crini di cavallo intrecciati senza l'aiuto di colle o materiali chimici. Lucia Scuderi è un'illustratrice e pittrice catanese che da circa 30 anni progetta e realizza libri per bambini pubblicati da alcune delle più prestigiose case editrici internazionali con particolare attenzione alla diffusione dei temi legati al mare e alla botanica. Molte delle sue illustrazioni sono state al centro di importanti mostre in Italia e all'estero. Continuando quindi nel solco della formazione extracurriculare in scultura, decorazione, grafica e illustrazione, la Workshop Week dell'Accademia di Belle Arti di Catanzaro aggiunge altri due importanti artisti al novero di personalità del mondo dell'arte, il cui saper fare è messo a disposizione degli studenti e delle studentesse. È importante che i nostri studenti e le nostre studentesse abbiano modo di confrontarsi con professionisti di alto profilo, hanno spiegato Giuseppe Negro e Cristina Gavello, docenti ABBA e componenti della Giunta del Dipartimento di Arti Visive. Queste occasioni rappresentano il veicolo per una crescita esponenziale e rapida, soprattutto sotto il profilo dell'approccio alla produzione artistica e al rapporto con mercato e committenti, aspetti fondamentali per completare la formazione di un futuro artista o di una professionista che opera nel contesto dell'arte. Fino a sabato le Escuderi proseguiranno con i loro Workshop, in cui sono coinvolti oltre 50 tra studenti e studentesse dell'Accademia Catanzarese.